Quinta penultima batteria dei quarti di finale, al passaggio due giri alla conclusione. Sì. Ammonite la numero 16 e la numero 40. Warning for number 16 and 41. E allora attenzione perché al prossimo passaggio al traguardo suonerà la campagna per l'ultimo giro. Coming bell for the last lap. Si sta già aumentando l'andatura, si si prepara a contenere uno dei due testi, entrare subito di diritto. Duecento metri ancora, lanciato lo sprint proprio ai duecento metri. Sono già i cento metri all'inizio del rettilineo d'arrivo, le prime due in semifinale. Si qualificano per le semifinali di diritto la numero 16, Marcian Deborah Fran. Accedendo alla finale la numero 19, Offerman Jose Germani e la numero 2, Bittner Vanessa Austria. Ammonite la numero 48 e la numero 35. Warning for number 48 and number 35. E' benvenuto la numero 27, Farah, per la quinta chiedere. Si può fare un problema, mi pare. Si può fare un problema, mi pare. Quindi devo fare un problema, mi pare. Sì, si puoi! Mi pare. Si può fare un problema, mi pare. Si può fare un problema di diario. Non è molto più. due attuanti per completare la griglia di partenza della finale, la metri mille, gara in linea, due posti quindi ancora, le prime due all'arrivo, lanciati allo sprint, siamo ai 150 metri, due posti per la finalissima, dove poi si gioca il titolo europeo della specialità ed eccole già in dirittura d'arrivo.